Sì, il sagittario, sagittari che saranno molto disponibili nei confronti degli altri. C'è una luna che transita in un settore del cielo che ha a che fare proprio con la solidarietà, no? Qui sarete disponibili nei confronti del collega di lavoro, magari camminando per la città, per la strada, si possono incontrare anche quelle persone che vogliono vendervi, non so, la stella di Natale per beneficenza e voi sarete molto disponibili anche ad elargire qualche euro in questo senso. Però è una giornata che porta dei grandi risultati a livello lavorativo ma anche sentimentale perché voi sarete piacevoli, belli, la vostra compagnia sarà davvero gradibile. Andiamo al segno del capricorno, l'una per voi piuttosto...